Quale messaggio si sente di dare a ragazzi giovani che vogliono iniziare la strada del ciclismo? Per loro sono anni importanti, quasi fondamentali per quanto riguarda la loro passione, per quanto riguarda il ciclismo. Sono Andre 23, hanno la possibilità di far parte di una squadra che gareggia in Italia e non solo. E quindi è importante. Quello che posso dire è che hanno in mani il loro futuro, che non devono avere rimpianti il giorno che smetteranno di correre. Perché i rimpianti te li porti dietro per tutta la vita. Uno può diventare un professionista, può diventare un campione, può anche smettere senza realizzare questo sogno. Però comunque avrà imparato tanto e se uno ha dato il massimo sarà comunque contento e soddisfatto. Perché quando riesci a ottenere il meglio, il massimo da te stesso, non hai di che lamentarti. E quindi l'unico consiglio che posso dare è quello. A Leonardo chiediamo quali sono i progetti di questa squadra? Penso che quest'anno è stato un inizio un po' diverso dagli altri anni, anche perché abbiamo fatto la presentazione dopo che abbiamo partecipato a tre gare, dove abbiamo avuto degli ottimi risultati. Un terzo posto, un podio con Giordano Francesco. Un decimo posto con Yuri Passa. E poi ciliegina sulla torta, anche se qui siamo negli stabilimenti della Ferretti Pasticceria, la convocazione in azzurro di un nostro atleta, Francesco Giordano.